Con che spirito i ragazzi scendono in campo oggi? Con lo spirito di preparare al meglio la gara che dovremmo andare a affrontare con l'Ancona perché la nostra prima gara di questa stagione è davanti al nostro pubblico è una gara ufficiale di Team Cup quindi che riveste una certa importanza, ci teniamo a far bene e a continuare la strada che è stata intrapresa a Brentonico quindi insomma nelle ultime tre amichevoli ci sono stati dei segnali di miglioramento come bisogna riscontrare in questo periodo della stagione e quindi andiamo avanti su questo cammino intrapreso Che gruppo ha trovato Mr. Breda nel ritiro del Trentino? Ha trovato un gruppo insolito nel senso che in questo periodo della stagione la squadra è per lo più in costruzione per almeno un 50-60% degli effettivi e lui è arrivato su un gruppo già collaudato quindi c'erano due facce nuove perché gli unici due che abbiamo inserito al 100% da fuori sono stati Diave e Tremolade il resto erano o giovani che avevamo in prestito o giovani che abbiamo promosso la nostra primavera o giocatori che sono stati riconfermati poi in realtà il nostro mercato è stato un mercato attivo perché comunque anche se sono rimasti molti giocatori abbiamo trasformato in due casi nel caso di perlizziare di Caputo il prestito con il diritto di riscatto quindi abbiamo acquisito due giocatori a titolo definitivo C'è ancora un mese per il calcio in mercato Che tasselli mancano nella Rosa? Sì, c'è ancora un mese è evidente che a livello di centrocampo siamo contati quindi andremo sicuramente ad inserire almeno un giocatore uno o due giocatori poi faremo il mercato con la filosofia degli ultimi periodi quindi cercare di essere attenti alle nostre esigenze ma anche alle occasioni di mercato e cercare di sfruttarle al meglio per completare la squadra Grazie a tutti!